Signori buongiorno e bentornati sul canale del MasterKai, io sono il MasterKai e il vostro ospite su questo canale. Chi segue il canale da tempo, anche soprattutto da anni, saprà che io spesso ripeto che banale e bello. L'altro giorno parlando con uno dei miei giocatori mi è stato chiesto perché banale e bello e lì mi sono reso conto che effettivamente in tutti questi anni di video non ho mai fatto un video a riguardo. Questa settimana quindi andiamo a correggere questa imperdonabile mancanza e andiamo a spiegare proprio perché banale e bello. Ora probabilmente molto di quello che dirò in questo video se voi siete Master con un minimo di esperienza risulterà scontato, però... Ehi, lo avete letto il titolo del video prima di cliccarci sopra? Quindi perché banale e bello? Ok, rispondiamo a questo tormentone del canale con un altro tormentone del canale perché voi non state scrivendo un romanzo. Spieghiamola. Uno degli errori più comuni tra i Master neofiti e quelli che essi approcciano in maniera superficiale al ruolo del Master è di dare per scontato che l'attività che il Master svolge sia assimilabile a quella di un romanziere o di uno sceneggiatore che sta scrivendo un'opera letteraria. In realtà tra un film, un romanzo e la quest e un gioco di ruolo c'è una differenza fondamentale nonostante siano tre forme di arte narrativa. Il film e il romanzo sono delle forme di intrattenimento passive per il pubblico. Quando guardate un film o leggete un romanzo voi siete lì fermi e tutto quello che di interessante può succedere è deciso dallo sceneggiatore. Il compito di rendere quell'esperienza interessante cade puramente sulle sue spalle. Questo però non vale per un gioco di ruolo, anzi il gioco di ruolo per la sua stessa natura è un'esperienza collettiva e collaborativa quindi non necessariamente è il Master che deve inserire ogni singolo elemento di interesse nella quest, anzi ogni singola persona seduta al tavolo dovrebbe costantemente giocare con in testa il concetto che la sua prima motivazione al tavolo è quella di inserire elementi che siano di interesse per tutti gli altri. Sicuramente se il Master è bravo a inserire questi elementi anche più bravo dei suoi giocatori è sicuramente un vantaggio perché migliorerà la quest in generale ma non è indispensabile che sia solamente lui a farlo e in realtà non è neanche indispensabile che sia lui a farlo e non qualcun altro. Anzi gli elementi che vengono introdotti dai giocatori e non da voi come Master in molti casi sono anche preferibili perché non viene a porsi la classica domanda del Master cioè ma questa cosa piacerà il mio tavolo? Se il tavolo stesso ha proposto di inserire qualcosa evidentemente al tavolo quella cosa piace o almeno al giocatore che l'ha inserita sicuramente piace. Questo fondamentalmente è il principale motivo per cui non è necessario che ogni singolo elemento e una quest sia introdotto da voi in prima persona ma che anzi all'estremo voi potreste non introdurre assolutamente nulla se non la situazione iniziale e poi lasciare che la quest si sviluppi unicamente in base alle reazioni che i giocatori hanno alla situazione iniziale. Questo non vuol dire che voi non dobbiate più fare niente anche perché comunque anche se non siete voi a introdurre gli elementi a voi resta comunque il compito di arbitro neutrale di supervisione di quello che viene inserito in quest. Il fatto che a un particolare giocatore piaccia un particolare tipo elemento non vuol dire che questo piaccia a tutti gli altri giocatori e non vuol dire che questo sia intrinsecamente coerente col tipo di racconto che si bisogna fare. Se state giocando una quest horror gli elementi inseriti devono essere orrorifici se un giocatore vuole buttarla in cacciara introducendo elementi da commedia demenziale probabilmente quella non è una proposta che deve essere accettata viceversa in una quest demenziale introdurre seri elementi horror potrebbe essere semplicemente deleterio e non aggiungere niente alla quest e ovviamente voi come master poi dovrete fare in modo che tutti i vari elementi proposti da tutti i vari giocatori vadano a legarsi l'uno con l'altro in modo che le singole trame si intrecino e che venga creata una situazione narrativa che è superiore alla somma delle sue parti mettiamola così. Rimane comunque il fatto che voi come master non dovete necessariamente introdurre una situazione iniziale assolutamente innovativa e impensabile ma potete concentrarvi semplicemente su pochi elementi che siano facilmente comprensibili e coerenti tra di loro e poi lasciare che sia il party a fare il grosso del lavoro per quanto riguarda le proposte innovative. tenete anche presente che il solo fatto di essere lì o di sentirsi come se si fosse lì in prima persona a fare di per se stessi le cose rende l'intera vicenda molto più interessante di quanto non sarebbe se la si leggesse semplicemente su un romanzo se si vedesse nel film come dicevamo prima. La classica campagna che racconta le imprese di quattro disperati che vanno a saccheggiare i dungeon per soldi è probabilmente uno dei concetti più abusati in assoluto nel mondo del gioco di ruolo però continua a funzionare sin dagli albori del settore proprio perché è una di quelle cose che riesce a coinvolgere le persone anzi molto probabilmente la maggior parte di voi anche la maggior parte delle persone che magari non hanno mai giocato a un gioco di ruolo avranno sentito un loro amico raccontare di quando lui e il suo party sono andati nel dungeon e tutte le bislacche avventure che gli sono successe questo però non ha fatto come reazione che la persona che ha sentito la storia ha detto ah ok sì l'ho già sentita è banale ma la sprona ad andare di persona nel dungeon a vedere quali saranno le sue bizzarre avventure anche se poi queste avventure saranno per quanto riguarda la sostanza fondamentalmente comparabili con quelle di chiunque altro abbia giocato quel tipo di quest senza contare il fatto che quattro avventurieri saccheggiano i dungeon è semplicemente la premessa della storia ma non necessariamente quello sarà il punto focale della storia anzi le avventure dei quattro avventurieri potrebbero essere semplicemente un pretesto e poi la storia si potrebbe focalizzare su tutt'altro si potrebbe focalizzare sulle interazioni dei personaggi tra di loro e vedere come personaggi dalla storia passata e dalla carriera totalmente differente riescono a collaborare o non riescono a collaborare o anche l'interazione dei party con i png magari ci sono personaggi bizzarri che li mandano a fare missioni strane il ricettatore di oggetti magici potrebbe diventare un personaggio centrale della quest in pratica ci potrebbero essere centinaia di elementi che non sono direttamente legati a quello che gli avventurieri fanno quando combattono i mostri nel dungeon che rendono la quest particolarmente interessante senza necessariamente essere legati proprio al concept dell'esplorazione del dungeon e questo discorso in questo caso vale anche per i giocatori non necessariamente il vostro personaggio deve avere chissà quale retroscena e deve avere chissà quale guisso caratteriale anche un personaggio relativamente banale e scialbo potrebbe diventare molto interessante non di per se stesso ma per il modo in cui si relaziona con i personaggi degli altri giocatori con l'ambiente in cui c'è i commenti che fa le sue idee politiche le sue idee religiose quello che è questo è un altro punto importante da ricordare per quanto riguarda il gioco di ruolo nel gioco di ruolo a differenza che nel cinema e nei romanzi il pubblico e l'autore coincidono voi siete contemporaneamente gli autori e i fruitori della storia che sta venendo raccontata al tavolo non c'è alcun motivo per cui questa storia debba prendere in considerazione un pubblico più ampio di quello che effettivamente sta giocando in quel momento migliaia di giocatori su migliaia di tavoli potrebbero aver giocato la quest degli eroi devono salvare il mondo dall'invasione aliena ma se quegli specifici giocatori a quello specifico tavolo non l'hanno mai giocata per loro quella quest potrebbe essere assolutamente non banale ma anzi inaspettata e incredibilmente interessante e al contrario una quest incredibilmente interessante e innovativa potrebbe risultare assolutamente scialba per chi si è già trovato a giocare in una situazione fondamentalmente simile considerate anche che una quest deve essere fruibile per chi la gioca e a differenza di un film che può essere visto tutto in un'ora e mezza, due ore o di un libro che può essere fondamentalmente sfogliato sia in avanti che indietro se alcuni pezzi non ci tornano, la quest normalmente viene giocata a intervalli di qualche ora una volta alla settimana se è ragionevole pretendere che una persona che guardi un film dopo un'ora e mezza nel finale si ricordi una scena che è avvenuta all'inizio del film o che un lettore di un libro torni indietro a controllare se qualcosa non gli torni non è altrettanto ragionevole aspettarsi che una scena che venga introdotta in una delle prime sessioni della quest venga poi ricordata nel finale di quella stessa quest che magari avviene mesi se non anni dopo una quest che possa essere incredibilmente complessa e raffinata con perfetti rimandi interni potrebbe essere ottima come romanzo ma potrebbe essere ingiocabile a livello di gioco di ruolo semplicemente perché la gente non è fisicamente in grado di legare tra i loro questi rimandi semplicemente per via dell'enorme lasso di tempo che passa tra una citazione e l'altra a quel punto la vostra quest molto complessa sarebbe rovinata la sua stessa natura e una quest con una trama molto più lineare di nuovo una quest molto più banale potrebbe essere molto più facile da ricordare per i giocatori e quindi se prevedete di giocare per anni potreste volontariamente rendere le cose molto più semplici perché questo le rende molto più fruibili per i giocatori tutto questo vuole quindi dire che le quest banali sono intrinsecamente migliori delle altre? no, ovviamente no una quest con una trama complessa, colpi di scena, personaggi strutturati su vari livelli quindi molto probabilmente sarà molto più interessante del il cavaliere deve salvare la principessa dal drago però non necessariamente questi sono elementi che devono essere priorizzati nel vostro percorso di crescita come master se siete dei master neofiti o anche se siete dei giocatori neofiti cercare di scrivere la quest più avvincente possibile per la sua trama non è la cosa migliore che potete fare concentratevi molto di più sulle dinamiche interne al party sul avere una struttura della storia che sia comprensibile i colpi di scena e gli effetti speciali possono essere lasciati a delle quest successive stessa cosa per i giocatori se state iniziando adesso a giocare di ruolo cercate prima di tutto di capire come funziona qual è il contratto sociale con gli altri giocatori come relazionarvi col master e il resto del party a creare il personaggio interpretato in maniera memorabile che verrà ricordato per decenni avrete tempo di farlo in seguito e sia per i master che per i giocatori neofiti se questa è la prima quest una delle prime quest che voi partecipate probabilmente comunque non riuscirete a fare quello che vi siete prefissati per via dell'inesperienza quindi aspettate l'abilità arriverà col tempo è una nota soprattutto per i master ma in generale ricordatevi che quando pensate di aver avuto veramente un'ottima idea statisticamente qualcuno l'aveva già avuta prima l'aveva già avuta meglio tutte le storie che vengono raccontate sono solo delle ripetizioni e dei rimescolamenti di storie precedenti quindi di per sé tutta l'arte letteraria del mondo potrebbe essere riassunto in banale e bello e tutti i giocatori con diciamo qualche anno di esperienza alle spalle possono confermarvi che a volte parlando con altri giocatori di esperienza è capitato di scoprire ed aver incidentalmente giocato quest virtualmente identiche anche se con gruppi diversi, imposti diversi, con master diversi semplicemente perché la quantità di storie che in un determinato gioco effettivamente funzionano è limitata e quindi le ripetizioni sono intrinseche nel gioco mettiamola così diciamo comunque che per questo video è tutto mi sa che ho cominciato a rantare e ho parlato fin troppo comunque come sempre se avete domande, dubbi o perplessità scrivete un commento qui sotto e scrivetemi anche se vi è capitato effettivamente di fare una quest dalle premesse molto banali che si è rivelata spettacolare o al contrario una quest che le premesse erano talmente complesse che poi andate in malore e diventate indiocabile o se vi è capitato di trovarvi ad aver giocato la stessa quest di gente che non conoscevate neanche come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se non volete perdervi le notifiche io sono il Master CAE, noi ci vediamo nel prossimo video